Buongiorno, io sono Sara Marcalli, una delle due titolari di Cappuccetto Giallo, che ha questo spazio per l'infanzia che da un anno ha portato un'ottica di rinnovamento e di innovazione nella gestione delle attività infantili e anche della possibilità per i bambini biellesi di avere uno spazio in cui muoversi, acquistare libri, acquistare giocattoli e fare merende e spuntini. Abbiamo scelto di aderire a questa iniziativa perché ci sembra che l'innovazione sia una delle caratteristiche fondamentali della nostra azienda e quindi è un'opportunità per noi imperdibile di dare risalto a quella idea di rottura e innovazione che abbiamo portato nella nostra città. Grazie per la visione!